open day qui a teverula si riparte con il gruppo v style occhio alle immagini sono felice comunque che ci siano queste iniziative di nuovo vedere tanta gente anche se in massima sicurezza come come sempre ma il piacere più grande è quello ecco di appunto ritrovare una famiglia la quale sono molto legato che appunto quella rosania quindi con il team di style con il quale ho legato da sin dall'inizio sin dall'inizio di questo percorso e quindi adesso sono veramente felice di essere di nuovo qui e di portare avanti questo discorso iniziato un bel po di tempo fa finalmente dopo la una sosta dovuta abbastanza evidente il problema lo sappiamo qual è cerchiamo stamattina con open day di ripartire e di iniziare i progetti che avevamo sospesi siamo operativi e siamo pronti su un programma ben dettagliato sul profilo accademia adesso la formazione si è allargata a 360 gradi se stiamo sempre sul pezzo insomma iniziamo adesso è il momento di iniziare fare success sarà un anno ricco di sorprese stamattina si riparte con questo open day siamo tutti carichi per poter rincominciare a fare quello che ci piace di più poi alla fine stare tra la gente stare tra i nostri colleghi fare formazione che è quello che ci dà lo stimolo principale poi per ritornare nei propri negozi poter lavorare sempre a livello alto un anno ricco di formazione per tutti quanti noi sicuramente sarà una bella storia con la busta e tanta crescita formativa con la speranza di ripartire più carichi di prima ci dobbiamo scrollare solo quest'anno da addosso e tante sorprese non voglio più sbilanciarmi perché voglio voglio aspettare i giorni con calma speriamo di ripartire a più presto e mentre a trovare seguiti sulle nostre pagine v style e ci hanno delle belle è stato un enorme piacere vedere tutte queste persone che ci seguono che ci amano non vediamo l'ora di continuare questo nostro percorso accademico taggato anno 2021 buona vita a tutti speriamo bene abbiamo molti molte più persone con noi questo è un anno del sacrificio della motivazione di un collegamento tra di noi ci saranno tantissimi progetti ma la cosa più efficace è stare proprio concisi col gruppo e migliorarci tra di noi come tutti gli eventi organizzati nel nostro gruppo si riparte alla grande più carichi di prima insomma con un'anima che a questo gruppo che sono anni ci contraddistingue dagli altri una ripartenza a 100 all'ora ci saranno tantissimi progetti ma la prima insomma con un'anima che si Un abbraccio a tutti, virtuale ovviamente, e a presto.